Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. La tanto discussa nomina di Manola Di Pasquale, presidente degli ZS Abruzzo e Molise, ha avuto il via libera dall'autorità nazionale anticorruzione dal TAR, ma la vicenda non è ancora conclusa perché il governo ricorre alla procura. Doppia vittoria per Manola Di Pasquale, presidente del CDA dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. La prima è arrivata da Raffaele Cantone dell'autorità nazionale anticorruzione che le ha dato ragione, nessuna inconferibilità, ritenendo legittimo l'incarico da presidente. Il TAR di L'Aquila ha respinto il ricorso della Federazione Veterinari e Medici che si opponevano alla nomina. Finalmente lo chiudiamo, confermando quello che era sempre esistito fin dall'inizio, cioè che il procedimento amministrativo postinesse alla regione per l'accertamento dei requisiti era chiaro e trasparente, attestato ovviamente dalla sentenza del TAR, così come non esiste la inconferibilità e l'incapacità e l'incompatibilità. Era tutto quello che mi hanno attribuito in questo periodo. Credo che è ora di chiudere questa porta e di chiuderla anche nei confronti del direttore generale, perché adesso non ricominciamo con la stessa filastrocca, perché facciamo solamente male a un ente che è un ente importante per il nostro territorio. Noi stiamo già lavorando su dei progetti importanti, basti pensare ai 32 milioni del Masterplan per la risoluzione dei condensiosi che riguardano il personale di quell'istituto, per farlo diventare e mantenere un centro di eccellenza e anche per ricostruire un rapporto con il Ministero, con il quale si è avuto delle incomprensioni nell'ultimo periodo, ma siamo convinti che tutto ciò possa essere ricostruito. Ma la vicenda non è ancora conclusa perché a seguito dell'interpellanza presentata dal deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano, il Ministero della Salute ha chiarito di aver incaricato i carabinieri di trasmettere le carte alla Procura della Repubblica. Ha chiesto al Ministero chiarezza sull'argomento e il Ministro, attraverso il sottosegretario Di Filippo, a qualsiasi settembre di ieri sera, ha risposto molto chiaramente come la pensa, e cioè che non condividendo la situazione e le scelte fatte e ritenendole in particolar modo quella del direttore non corretta e non a norma, non avendo avuto altra maniera di interloquire con la Regione, ha preso le carte e ha incaricato i carabinieri di trasmetterle alla Procura della Repubblica. È gravissimo, di una gravità inaudita, che un Ministero si deve rivolgere alla Procura della Repubblica per interloquire con la Regione, tanto più che il Ministero e Regione sono della stessa parte politica, quindi non è neanche opinabile che ci sia stata un'azione costruita per danneggiare politicamente la parte avversaria. È evidente che l'arroganza di questa Regione, la supponenza e il mancato rispetto di ogni regola di diritto e di convivenza civile, ha portato sì che il Ministro non ha potuto fare altro che far intervenire la Magistratura. La senatrice abruzzese Federica Chiavaroli entra a far parte dell'esecutivo Renzi come sottosegretario alla Giustizia nel quadro più ampio del rimpasto nel Governo nazionale. La nomina è arrivata poco dopo le 21 alla fine del Consiglio dei Ministri. Alfredo Primante. È stata una notte particolare, il Ministro Andrea Orlando mi ha chiamato invitandomi ad andare al Ministero, un Ministero che crea anche qualche soggezione. Sono queste le prime parole da sottosegretario alla Giustizia di Federica Chiavaroli, 45 anni, pescarese, madre di tre figli, imprenditrice nel settore dell'istruzione. Ex consigliere regionale nella legislatura guidata da Gianni Chiodi, un passato di militanza nel popolo della libertà, nell'equilista è stata eletta al Parlamento nel 2013, dopo essere stata quasi costretta ad accettare la candidatura. Sempre nel 2013 è stata tra le promotrici del progetto politico di Angelino Alfano per la creazione del nuovo centrodestra, all'atto della disgregazione del popolo della libertà e della rinascita voluta da Silvio Berlusconi di Forza Italia. La senatrice Federica Chiavaroli è arrivata alla carica di sottosegretario alla Giustizia dopo che a lungo si era parlato di un suo ingresso all'interno dell'esecutivo capitanato dal primo ministro Matteo Renzi, voci che si sono rincorse da quando lo scorso anno l'allora ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi, quota NCD, aveva rassegnato le dimissioni, aprendo così i giochi di un rimpasto nel governo Renzi. L'ingresso nell'esecutivo della Chiavaroli rafforza il ruolo abruzzese nell'amministrazione della giustizia italiana, dopo l'elezione di Giovanni Legnini, quota PD, a vicepresidente del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura. Sono stati molti messaggi di augurio da parte della politica abruzzese, dai compagni di partito di Paolo Tancredi e Giorgio D'Ignazio, all'onorevole PD Vittoria Dincecco, passando per il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno, fino al presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, che in una nota ha rivolto alla senatrice gli auguri di buon lavoro a nome dell'intero Consiglio regionale dell'Abruzzo. Di Pangrazio è anche ricordato come quella della Chiavaroli sia una nomina importante per la regione che arricchisce l'Abruzzo di un interlocutore autorevole all'interno del governo. E dopo le polemiche con emendamenti della maggioranza e dell'opposizione, sarà profondamente rivisto il progetto di legge di modifica delle regole per l'accreditamento alle cliniche sanitarie private. Filippo Tronca. Goffo dietro fronte per le opposizioni, normale modifica di una proposta di legge predisposta dai tecnici, secondo la maggioranza. Sia come sia, la proposta di modifica spramente contestata della legge 35 del 2007, che regola l'accreditamento e gli accordi contrattuali tra regioni cliniche sanitarie private abruzzesi, sarà drasticamente ridimensionata, dopo il passaggio in Commissione regionale sanità di ieri. E saranno cancellati alcuni punti che avevano fatto urlare a un favore alle cliniche private, grazie agli emendamenti correttivi di maggioranza, firma del presidente Mario Olivieri, ex Abruzzo Civico, di Sandro Mariani e Luciano Monticelli, PD di Maurizio Di Nicola e di Centro Democratico, ed anche grazie agli emendamenti di Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Sarà dunque ripristinata la revoca dell'accredito per la clinica che sforirà il budget di spesa, che era stata eliminata. Inoltre non sarà la giunta regionale a predisporre le visite ispettive nelle cliniche, con una pericolosa discrezionalità politica, ma continueranno a farlo i dipartimenti competenti. Destinato a sparire anche un altro articolo contestato, quello che introduceva la possibilità per gli ambulatori privati di servirsi anche di personale sanitario non regolarmente abilitato e iscritti a rispettivi albi professionali di competenza. Il testo, grazie a questi emendamenti, sarà dunque rimaneggiato nella prossima seduta della quinta Commissione, prima di arrivare in aula. 590 milioni di fondi europei per le imprese abruzzesi, lo ha annunciato il Presidente della Regione, D'Alfonso, che a margine ha parlato anche della volontà di riportare a Pescara un'opera di toioito. Paolo Renzetti. Sono 1200 gli interventi finanziati dalla Regione per le imprese abruzzesi, grazie alle risorse dei fondi europei 2007-2013, per una cifra complessiva di 590 milioni di euro. Questa mattina, presso la sala Tinozzi della provincia di Pescara, il Presidente Luciano D'Alfonso ha incontrato i rappresentanti delle imprese che hanno beneficiato delle risorse. Qui siamo davanti a oltre 1200 contraenti che hanno sottoscritto obblighi giuridicamente vincolanti e hanno anche un obbligo morale di fare bene, non solo di fare ciò che è scritto nel contratto finanziato dalla Regione, appaltato dai diversi enti, aggiudicato da questi operatori economici che ci sono qui. Non solo devono fare quantitativamente, ma devono fare qualitativamente bene, poiché da questi investimenti deriverà l'Abruzzo migliore, l'Abruzzo che funziona, l'Abruzzo che accoglie e l'Abruzzo che garantisce diritti e opportunità. La cifra che abbiamo messo in cammino e che metteremo in cammino nei prossimi 5 anni è una cifra irripetibile. Abbiamo appaltato circa 800 milioni di euro e adesso appalteremo di qui ai prossimi 5 anni 2 miliardi e 200 milioni di euro. Ci deve essere anche un vincolo morale a fare non solo quantitativamente tanto, ma a fare qualitativamente bene. E a margine dell'incontro con gli imprenditori, il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, ha parlato del desiderio di riportare a Pescara un'opera dell'architetto giapponese Toyo Ito. Io credo che il rapporto con questo gigante dell'arte e del design mondiale non possa essere concluso con quella vicenda dolorosa che fu la vicenda di Toyo Ito a Piazza Salotto. Io vorrei reincassare il rapporto con lui facendo in modo che concepisca una nuova opera d'arte da collocare in luogo idoneo, sperando che l'atmosfera, la circostanza, il clima, la complessità delle condizioni consentano una migliore riuscita. Una roadmap con tempi certi completa di elaborati progettuali già pronti in possesso del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto, così da poter ottenere i 25 milioni di euro del Governo nazionale nell'ambito dei finanziamenti al Masterplan e concludere, dopo oltre 30 anni, definitivamente la realizzazione della diga di Chiauci ai confini tra Abruzzo e Molise. Se ne è parlato ieri a Pescara in una riunione convocata dal Presidente della Giunta, Luciano D'Alfonso a cui ha partecipato tra gli altri l'assessore a lavori pubblici e infrastrutture della Regione Molise, Pierpaolo Nagni. Bando blindato per la Teramo Ambiente. Il sindaco Maurizio Brucchi ha chiesto l'intervento dell'autorità anticorruzione per vigilare sul bando della municipalizzata appunto Teramana. Vediamo. Abbiamo chiesto ed ottenuto l'assistenza da parte dell'ANAC, dell'anticorruzione e del Presidente Cantone. È una garanzia per il Comune, è una garanzia per la Teramo, è una garanzia per tutti i cittadini terramani, anche alla luce di quello che è successo un po' negli anni alla Teramo Ambiente. Noi abbiamo chiesto assistenza sia in questa prima fase, vorrei precisare che il bando è pronto, noi possiamo pubblicarlo, adesso l'abbiamo inviato all'ANAC e l'ANAC ci darà l'ok. sia nella fase del bando, sia nella fase di istruttoria, nella fase della scelta della commissione che è fondamentale e poi anche nella giudicazione che si dovrà fare fino ad individuare il vincitore. È un appalto da oltre 100 milioni di euro, una gara importante, una gara difficile e quindi questo mi ha spinto a chiedere all'ente che è poi quello che è sovraordinato anche a tutta una serie di attività in un momento particolare e devo dire tra l'altro che i rifiuti di per sé sono un po' una storia a parte e quindi io sono davvero contento e soddisfatto che poi l'ANAC abbia, come dire, spesso preve favorevole e ci assisterà in questa fase. Ed ora la cronaca è morta stamani, l'anziana di 84 anni investita qualche giorno fa da un'automobile in via Rigopiano a Pescara. L'anziana che era ricoverata nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara non è riuscita a riprendersi ed è deceduta per le lesioni riportate in seguito all'incidente. La donna per cause ancora in corso di accertamento era stata investita il 26 gennaio scorso da una Citroen guidata da un pescarese di 57 anni. Del caso si sta occupando la polizia municipale. E cambiamo decisamente argomento. Tornano già da domani a Pescara le domeniche ecologiche. L'ho annunciato questa mattina in conferenza stampa il sindaco Marco Alessandrini e il vice sindaco Enzo Del Vecchio. Messo da parte il progetto delle targhe alterne a Pescara da domenica prossima. Torneranno invece le domeniche ecologiche. L'annuncio questa mattina nel corso di una conferenza stampa da parte del vice sindaco del capoluogo adriatico Enzo Del Vecchio. La mattina di domenica dalle 9 alle 12 e 30 e il poperiggio dalle 15 alle 18. L'area interessata è la stessa identica che abbiamo attuato quando abbiamo limitato il traffico ad alcune categorie dei veicoli. Quindi parte dallo stadio, segue via Le Marconi, Corso Vittorio Emanuele, via Silvio Pellico, via Leopoldo Muzzi. Quel rettangolo che ha poi alle spalle il mare è completamente inibito al traffico nella giornata di domenica. Una grande giornata ecologica, domenica ecologica, con un recupero sia della qualità dell'aria ma credo anche della vita dei cittadini. I parcheggi di contorno di quest'area sono ben delimitati. Il trasporto pubblico è a 1,30 euro per l'intera giornata. Credo che i cittadini possano usufruire di questa grande isola pedonale nella maniera più congrua possibile. La questione del parcheggio dell'ospedale Mazzini di Teramo arriva a Palazzo di Città. L'azienda sanitaria è decisa a riprendere la gestione del parcheggio. Costosa però. Il parcheggio dell'ospedale Mazzini sarà gestito dalla ASL. Questo già a partire dal 1 marzo, quando la ditta Parking Italia riconsegnerà la struttura all'azienda sanitaria. Lo ha annunciato il manager della ASL, Roberto Fagnano, nel corso della riunione di capigruppo convocata a Palazzo di Città per discutere di un problema che interessa tutta la cittadinanza. Fagnano ha spiegato, tra le osservazioni del Partito Democratico, che non si è detto affatto convinto del progetto che la ASL ha intenzione di trovare un accordo con il privato per riprendersi definitivamente il posteggio, completarlo e gestirlo. Questo per chiudere un'annosa diatriba che si è aperta già ai tempi dell'ex manager Varrassi. La situazione è che esiste su una proprietà della ASL, perché è della ASL, un'opera realizzata e che un perito del Tribunale ha valutato in circa 9 milioni di euro, poco meno. Che facciamo? Se noi non troviamo una soluzione a questa controversia in via bonaria, la controversia semplicemente si sposta davanti al giudice. E allora decidiamo se vogliamo dirigere questa situazione oppure essere vittime o succubi o partecipi davanti a un giudice di quella che sarà la decisione. Io credo che se l'azienda ne torna in possesso, in proprietà già lo è, e comunque assuma la titolarità alla totale capacità di gestione di questo parcheggio, possa trovare dei finanziamenti per adeguare il progetto iniziale e anche per finanziare eventuali opere finali. Più autobus tra l'Aquila e Avezzano, il segretario provinciale della CGL Trasporti auspica che la fusione tra AMA e TUA sia l'occasione per migliorare il servizio e potenziare le tratte appunto sottodimensionate. Bene, anzi benissimo la fusione dell'AMA, la società aquilana del trasporto pubblico, con la TUA, la società unica regionale dei trasporti. Purché non sia solo un'operazione ragioneristica e di facciata, a sottolinearlo Domenico Fontana, segretario Filt CGL della provincia dell'Aquila, che chiede che la fusione sia l'occasione ad esempio per estendere in tutto il territorio regionale il biglietto unico già esistente nell'area metropolitana di Chieti-Vescara e che offre un indubbio vantaggio economico agli utenti. Ed ancora il potenziamento di tratte oggi sottodimensionate, in primis quella tra l'Aquila e Avezzano. I pendolari attuali e potenziali sono oggi di gran lunga superiori rispetto agli autobus disponibili e alle corse. Noi abbiamo una relazione fortissima tra l'Aquila e l'Avezzano, oggi servita malissimo, con pendolari che rimangono a pieti, senza mezzi e quant'altro. Ma noi oggi vogliamo cogliere l'opportunità delle notizie uscite sulla stampa, e cioè il nuovo materiale rotabile impiegato sulla tratta sul Mona l'Aquila e la notizia della fusione idama-intua. Noi crediamo che queste due operazioni vadano messe in relazione per parlare di intermodalità. Noi abbiamo questa caratteristica, abbiamo un territorio vastissimo e un finanziamento del servizio pubblico limitato e mai adeguato nel tempo, né alla realtà né alle percorrenze di numerico. Questa operazione di fusione ovviamente può darci una mano, ma anche qui se vogliamo sviluppare la politica dei trasporti pubblici dobbiamo avere le stesse condizioni di accesso che questa regione riserva a un parte di questo territorio. Parliamo del biglietto unico, la possibilità quindi di utilizzare più vettori, che siano gomma, che siano ferro, con un unico biglietto, con un'estensione temporale adeguata. Dato di agitazione oggi da parte dei dipendenti delle Camere di Commercio che ritengono inaccettabile il taglio del personale. Vista e considerata la riforma, oggi questo incontro, questa assemblea del personale della Camera di Commercio di Teramo per affrontare appunto diversi temi, tra cui le problematiche occupazionali future. Nella bozza di riforma che è circolata in questi giorni, che non è stata tutt'oggi ancora confermata dal Governo, è previsto un taglio del 15% del personale a livello nazionale, più un ulteriore taglio del 25% per le Camere che affronteranno le fusioni. La Camera di Commercio di Teramo è una Camera interessata alle fusioni perché ci hanno già avviato alla fusione con la Camera di Commercio dell'Aquila. Quindi noi dovremmo perdere un 15% del personale in una fase iniziale più il 25% dopo il processo di fusione terminato. Chiaramente questa bozza circolata ci ha messo in agitazione, in allarme e sono partite iniziative in tutta Italia per fare al sempre personale stato di agitazione. Quale sarebbe quindi il ruolo futuro delle Camere di Commercio? Cosa cambia in sostanza? Il ruolo delle Camere di Commercio viene sostanzialmente ridisegnato perché viene meno tutta l'attività di promozione economica che le Camere di Commercio svolgono sul territorio attualmente. Considerate che negli ultimi 5 anni la Camera di Commercio di Teramo ha erogato direttamente alle imprese contributi per oltre 10 milioni di euro e verrebbero meno anche altre funzioni fondamentali quali ad esempio il servizio di conciliazione ed arbitrato, l'osservatorio sull'economia, quindi gli studi sull'economia e l'attività di internazionalizzazione, la promozione all'estero da parte delle imprese terramane, la promozione della qualità e il sostegno allo sviluppo di nuove imprese. A 37 anni dal suo omicidio, questa mattina a Pescara è stato ricordato il giudice pescarese Emilio Alessandrini, assassinato a Milano il 29 gennaio del 79 da un commando di prima linea. Sindaco Alessandrini, oggi è stato ricordato il sacrificio di suo padre 37 anni fa, lei nel breve discorso ha detto non un eroe ma un uomo fra gli uomini. Ah beh sì, io continuo a pensare che appunto i caduti in difesa della legalità lo abbiano fatto non perché credessero di essere eroi ma semplicemente perché erano persone come noi, uomini tra gli uomini per l'appunto che avevano a cuore le nostre istituzioni, il nostro Stato e che non credevano di fare nulla di particolare ma si limitavano a esercitare il dovere e le responsabilità che erano state loro conferite e credo che questa sia diciamo una costante delle tante storie che ho conosciuto nel corso di questi anni dei tanti caduti per la mano violenta, per quel cuore di tenebra che si annida purtroppo nella società, si annida ieri come si annida oggi con forme diverse e penso che la risposta al cuore di tenebra e cioè alle difficoltà della società debba essere sempre fornita con le regole del nostro Stato con il rispetto della Costituzione e delle leggi ho poi in questa breve cerimonia rivolto un pensiero alle giovani generazioni ai ragazzi oggi qui presenti che all'epoca naturalmente non solo non erano nati ma probabilmente non erano neanche lontanamente previsti all'auspicio di poter vivere una vita piena, pagante di consapevolezza dei valori della collettività che ci riguardano tutti l'individuo e la collettività sono la stessa cosa non si deve pensare che tutto ciò che riguarda la cosa pubblica non ci riguardi ci riguarda tutti perché attiene la nostra vita e vogliamo vivere una vita la migliore possibile nel rispetto degli altri e sempre rinunciando alla violenza come strumento di soluzione di controversie, di tensioni che ci sono nella nostra società indubbiamente ma la risposta alle problematiche mai può essere quella della via violenta Ed ora passiamo alla pagina sportiva già venduti circa 9.000 tagliandi per la gara di domani tra Pescara e Bari allo stadio Adriatico Cornacchia sarà dunque record stagionale di presenze ampia la rappresentanza ospite cui è stata destinata l'intera Curva Sud a disposizione del tecnico Camplone i nuovi Sissoco, Dezzi e Tutino nel Pescara Out, Crescenzi, Ballottaggio, Torreira, Mandragora a centrocampo prima convocazione per Daniele Verde ascoltiamo nel servizio il portiere biancazzurro Vincenzo Fiorillo ho fiducia nella mia squadra quindi penso che sabato prepareremo la partita come sempre come abbiamo sempre fatto cercando di imporre il nostro gioco come abbiamo fatto a Perugia al di là dell'avversario penso che le sorti della nostra squadra dipendano da noi loro hanno sicuramente un organico importante magari hanno trovato un po' di difficoltà inizialmente adesso con l'arrivo di Camplone sicuramente hanno cercato di cambiare identità e comunque diciamo che più che preoccupazione è uno stimolo in più per misurarsi vedere questa squadra dove vuole arrivare Giustamente si punta alla settima vittoria consecutiva non solo per il record di vittorie ma sarebbe importante e sicuramente importante non perdere perché questo è uno scontro diretto Più che scontro diretto come sappiamo la settima vittoria di fila poi vuol dire anche aver fatto 21 punti quindi noi vogliamo dare continuità sappiamo che non tutte le partite saranno belle giocate al 100% come quelle di Perugia ci saranno anche gli avversari da cui vorranno vincere quindi noi dovremo adattarci a tutti i tipi di partite che si porranno davanti la forza di questa squadra è la crescita che ha avuto in questi mesi a sapersi adattare a vari tipi di avversari di partita interpretare la partita nel modo giusto quindi secondo me quello che è stato fatto domenica è stata una cosa importantissima una prestazione che può dare delle consapevolezze però adesso dobbiamo battere forte perché il campionato inizia a entrare in una fase importante L'esterno d'attacco croato Manuel Milinkovic è il nuovo giocatore della Virtus Lanciano stamani è arrivata l'ufficialità il giocatore che ha giocato la prima parte della stagione a Salerno arriva dal Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in attesa del visto Milinkovic è stato anche convocato per la partita di domani nella quale farà il suo debutto il neoportiere Alessio Cragno Ballottaggio in mediana tra Bacinovice e Zeduardo in attacco Bonazzoli Ferrari e Padovan si contendono una maglia a fianco di Marilungo ascoltiamo il tecnico d'Aversa sulla conferenza di domani col Trapani Siamo contenti che sia arrivato un ragazzo che comunque ha fatto di tutto per venire qui a Lanciano pur essendo una squadra il Cagliari ha fatto di tutto sia quest'estate che adesso per venire qui finalmente ci è riuscito e fa piacere la voglia di questo ragazzo di venirci a dare una mano e dobbiamo sperare dobbiamo far sì che la voglia di questi ragazzi lo stesso Bonazzoli che è venuto comunque da un palcoscenico importante per venireci a dare una mano è il fatto di ottenere quell'obiettivo ripeto difficile sicuramente ma sono convinto che se continuiamo a fare quello che stiamo facendo alla fine otterremo quell'obiettivo che è quello della salvezza la posta in palio è una posta importante quello che mi aspetto è che ci sia porto da parte del pubblico perché è una partita importantissima ma il giro di ritorno è chiaro che dobbiamo unirci tutti quanti per cercare di ottenere quell'obiettivo che ripeto sono convinto che alla fine lo otterremo per far sì che questo accada c'è bisogno anche che il pubblico aiuti questi ragazzi e dia il proprio appoggio come sta facendo ultimamente quindi non cambia assolutamente nulla comunque dobbiamo cercare di vincere la partita senza far sì che sbilanciarsi senza dare la possibilità al trapine magari di colpirci in contropiede con delle ripartenze dobbiamo essere sereni e lucidi nel cercare di far nostra la partita che così facendo magari sicuramente miglioreremo la posizione in classifica sicuramente metteremo dentro una squadra in più per la lotta alla salvezza e quindi sicuramente ci avvicineremo di più al nostro obiettivo quindi quella a prescindere i punti di penalizzazione poi quelli quanto verranno vedremo e il Trapani arriva a Lanciano in un momento non particolarmente felice dopo aver perso le prime due del girone di ritorno contro Ternana e Latina il mercato ha tolto al tecnico Cersei Cosmi l'attaccante Naderivic finito al Novara fuori causa per la gara del Biondi gli infortunati Ciamaritaro e Torregrossa lo stesso Cosmi non si fida della Virtus Lanciano come ha affermato nella conferenza pre-partita ascoltiamo sicuramente ha fatto una politica scusate in questo mercato una politica particolare però non è detto che sia di smobilitazione anzi spesso quando si sostituiscono anche i giocatori che stanno da tanto tempo però arrivano gente nuova magari che ha voglia di mettersi in mostra e soprattutto anche le qualità questo potrebbe essere un migliorare una situazione per cui io non mi illudo minimamente di trovare una squadra che sta smobilitando anche perché lo dimostrano e i risultati e soprattutto le prestazioni di questa squadra nell'ultimo periodo quindi sono siamo convinti di affrontare un avversario difficile in questo momento ancora è dentro il campionato in questo momento ho visto anche la partita contro l'Ascoli il risultato è assolutamente diverso da quello che la qualità del gioco del Lanciano ha espresso in quella partita quindi la partita difficile che diventa anche un pochino più difficile perché il nostro periodo non è dei migliori è una piccola emergenza però bisogna farne fronte bisogna tirar fuori altre qualità o soprattutto tirar fuori comunque i giocatori che saranno a disposizione perché comunque sia hanno le possibilità per poter essere dei protagonisti anzi è un'occasione importante per alcuni di loro di dimostrare che possono essere protagonisti andiamo in Lega Pro dopo aver conquistato sette punti nelle prime tre partite del 2016 il Teramo cerca continuità di risultati per allontanarsi dalla zona play-out domenica al Bonolis scontro diretto con il Sant'Arcangelo che in attesa della sentenza del processo sportivo di Irti Soccer al momento ha gli stessi punti dei Biancorossi il portiere terramano Tonti ha parlato della svolta delle ultime gare dell'importanza dei nuovi innesti ai microfoni di Andrea Costantini Evidente che qualcosa è cambiato io sento già anche durante la settimana nello spogliatoio l'aria che si respira totalmente un'aria diversa e quindi dobbiamo continuare su questa strada perché siamo nella strada giusta adesso bisogna confermarsi domenica in casa sappiamo che in casa esprimiamo un gioco migliore che fuori casa e quindi dobbiamo solo confermarci l'arrivo di Forti Cruciani ha dato una svolta specialmente a livello mentale perché sono due ragazzi eccezionali fin da subito hanno dimostrato che ci potevano dare un contributo molto importante non solo tatticamente ma che ripeto a livello mentale quindi mi hanno fatto subito un'ottima impressione subito un'ottima un'ottima impressione veramente due ragazzi eccezionali e molto determinati che è quello che conta per adesso rimane un scontro salvezza poi si vedrà alla lunga tiriamo le somme alla fine sono convinto che se continuiamo a avere questa mentalità questa concentrazione come abbiamo dimostrato nelle ultime gare non so se sia troppo tardi ma ci proveremo fino alla fine Per l'Aquila Calcio il neodifensore in prestito dal Pescara Emanuele Pesoli è pronto all'esordio in maglia rosso-blu nella trasferta di Pontedera Gianmarco Menga Emanuele Pesoli si avvicina all'esordio in maglia rosso-blu a Pontedera dopo i problemi al Polpaccio come stai? Diciamo che ho recuperato a pieno ho fatto questi 20 giorni di terapia in un centro specializzato a Cesena e quindi ecco sono rientrato ieri ho fatto il mio primo allenamento con la squadra sono soddisfatto insomma speriamo di essere pronto per domenica insomma per dare una mano ai ragazzi e alla società Ecco dopo svariati anni torni in Lega Pro cosa puoi portare a questa squadra? Ma sicuramente porterò esperienza esperienza di un giocatore che comunque ha fatto diversi campionati nei cadetti anche un anno in Serie A non gioco dal 2006 forse sì dal 2006 in Lega Pro che era poi la vecchia C però comunque ho sempre eseguito i campionati minori perché diciamo che la mia passione è quella del calcio e quella di allenare quando smetterò quindi conosco bene le realtà che sono in questo campionato e anche quella del Ponte Terra che andremo ad affrontare arriverà probabilmente lunedì la famosa penalizzazione la sentenza sulla penalizzazione come hai visto la squadra in questi giorni? Ma guarda ti dico io ho trovato una squadra serena e concentrata sull'obiettivo che è quello che comunque è la salvezza purtroppo i fattori extracalcistici non devono toccarci assolutamente perché quelle sono cose che vanno discusse e risolte nelle sedi opportune ho visto comunque una squadra che mira dritto all'obiettivo concentrata in campo segue alla lettera quello che dice il mister quindi sotto questo aspetto sono tranquillo e faremo del tutto per salvare la categoria e per così regalare anche comunque una soddisfazione alla proprietà e alla piazza che è quella dell'Aquila e nell'ultima gara del girone di andata sabato l'Aquila Rugby ospita al Fattori il Sandonà il servizio riprende il massimo campionato italiano di rugby con l'ultima partita del girone di andata l'Aquila sarà in campo sabato alle 15 allo stadio Fattori contro il Sandonà i neroverdi sono ancora a caccia del primo successo stagionale una partita ostica importante nel cammino aquilano quella contro i Veneti che arrivano in Abruzzo dopo alcune buone prestazioni avendo pareggiato a Viadana vinto in Coppa con il Piacenza e in campionato sulle Fiamme Oro in casa l'Aquila però l'infermeria è piena sono out Petro Tamba Alessio Tammoccia Dario Subrizi Marcello Angelini Manuel Panetti Simone Ceccarelli e Nardo Casolari mancherà anche Ugo Donofrio causa squalifica intanto in vista dell'inizio del 6 Nazioni 2016 è stato ufficializzato il nuovo calendario del girone di ritorno di campionato in particolare la prima la terza e la quarta giornata di ritorno si giocheranno di domenica anziché di sabato l'Aquila Rugby ospiterà il Viadana al Fattori domenica 7 febbraio ed il Rovigo il 20 di marzo mentre la trasferta a Moiano è stata riprogrammata per domenica 13 marzo ed è tutto per questa prima edizione del TG6 l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle ore 19 grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione